Certamente la tensione è sempre elevata nella zona del pseudo-cantiere, perché ricordiamo che non è un vero e proprio cantiere, ma soltanto un'area recintata e in tutti questi mesi alla fine non si è fatto altro che mettere e togliere reti e poco altro per dimostrare in qualche modo di voler iniziare un'attività, ma la gente non molla e quindi ogni giorno c'è qualche iniziativa di protesta, qualche provocazione, giusta o sbagliata che sia, ma questo secondo me ha un grande significato nel voler tenere alta l'attenzione sul fatto che le istituzioni continuano a ignorare il problema di base, cioè la discussione se l'opera serve o no, questo è il punto fondamentale. E' inutile che trasformiamo ogni giorno che c'è qualche scaramuccia in una questione di ordine pubblico, questo verrebbe dopo, prima bisogna affrontare la questione dell'opera. Serve o non serve? Quali sono i dati o meno a supporto di questa scelta? Quali sono gli scenari economici pesantissimi che graverebbero sul paese, peraltro in questo momento di estrema difficoltà? E dopo che si danno risposte precise, rigorose, con dati di supporto, con un serio dibattito a questa domanda, allora dopo, una volta che ci sia una decisione ragionata, si potrà discutere del rapporto con la popolazione. Invece questa fase continua a essere ignorata, nonostante l'appello al Presidente della Repubblica, sottoscritto da 135 docenti universitari e ricercatori di tutta Italia, che al 26 di luglio è stato presentato, per ora senza risposta, dove si chiede proprio questa analisi dei dati ormai come questione di metodo, non è questione ormai di democrazia. Qui prima di tutto è una questione di metodo scientifico. Siamo lontanissimi dalla fase di scavo, qui si tratta semplicemente di un'opera di propaganda per dimostrare all'Unione Europea che c'è la volontà di andare avanti, ma in realtà non c'è nessuno scavo, c'è una zona di boschi semplicemente recintata e presidiata le forze dell'ordine, dove eventualmente in futuro si dovrebbe iniziare a scavare il tunnel esplorativo, vale a dire non il vero e proprio imbocco del supertunnel a 57 chilometri, ma semplicemente un tunnel di servizio che servirebbe per verificare le condizioni geologiche, geofisiche della roccia che potenzialmente potrebbe essere attraversata dall'opera definitiva. Quindi siamo in una fase estremamente marginale dell'opera stessa, non è che qui si sta bloccando un progetto che è già partito e di cui si sono realizzate parti importanti, siamo veramente ancora alla fase delle cartine con una riga tirata sopra. Da un lato la gente continua a far sentire la propria voce e soprattutto ha sempre meno fiducia delle istituzioni, perché questo muro di gomma che viene costantemente elevato fronte a questa richiesta di analisi ragionata e ragionevole delle motivazioni dell'opera, chiaramente porta le persone all'esasperazione, non c'è verso di avere forze politiche istituzionali che scendono al confronto sui dati fondamentali dell'opera. Quindi da un lato abbiamo la protesta popolare che continua a crescere e a mio parere non lascerà certamente la presa nei prossimi mesi, con costi peraltro anche elevati per tutta la gestione delle forze di polizia che sono coinvolte in questo assurdo e surreale scenario. In secondo luogo c'è anche un aspetto legato alla maturazione anche tecnica e del mondo scientifico su questo problema, tant'è che proprio venerdì 26 agosto viene inaugurato tra Venaus e Bussoleno il forum internazionale contro le grandi opere inutili, che è un momento di riflessione proprio sull'attuale gestione di queste grandi opere, di cui la Tarte Rino-Lione è solo un simbolo ma ce ne sono purtroppo molte altre in Italia.